Dovrebbe essere stato un arresto cardiocircolatorio alla base della morte di Vincenzo Fusco e questo è il risultato dell'autopsia sul cadavere del quarantenne trovato morto domenica all'alba a Trani. Serviranno alcuni giorni per capire però da cosa sia di peso, se da cause naturali o dall'assunzione di un mix tra stupefacenti farmaci e alcol secondo quanto in prima battuta ipotizzato dagli inquirenti. Intanto le indagini dei carabinieri dei Trani coordinati dal PM Simona Merra proseguono e una donna di 50 anni separata che si trovava con Fusco la notte tra sabato e domenica è stata iscritta in registro degli indagati. La stessa donna con cui il quarantenne aveva frequentazioni e che chiamò domenica notte i soccorsi rivelatesi poi vani all'arrivo dell'ambulanza l'uomo era già morto, l'accusa è di omicidio colposo. Nei prossimi giorni intanto si conosceranno anche gli accertamenti dei carabinieri su alcuni granuli trovati vicino al letto del BNB in via Annibale Maria di Francia dove è morto Fusco. Gli inquirenti hanno ipotizzato si trattasse di droga ma le ipotesi dovranno essere confortati dai dati oggettivi degli analisi. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.